Tre cantori della stella e notti Sternsinger hanno portato questa mattina gli auguri di Natale al Consiglio Provinciale. Ad accoglierli in una suggestiva atmosfera imbiancata, a nome dell'intero plenum, il presidente Josef Nogler. I tre fratelli Jacob, Sophie e Amélie, accompagnati dall'assistente pastorale Catherine Balder, hanno intonato i classici canti di Natale. Una tradizione che si ripete anno dopo anno e che vede gli Sternsinger vestiti da re magi recarsi casa per casa a consegnare l'incenso per la benedizione e il gesso per contrassegnare l'uscio con le lettere Caspar, Melchior e Baldassarre. Il presidente Josef Nogler ha ringraziato gli Sternsinger per il loro spirito di solidarietà e il loro impegno a favore di un mondo più giusto. Ogni anno, tra Natale e l'Epifania, i cantori della stella, organizzati dall'associazione Südtirols Katholischer Jungschar, raccolgono fondi per sostenere oltre 100 progetti di beneficenza e solidarietà in tutto il mondo. Grazie a tutti.